In casa Bari, le ore successive alle lacrime versate sul campo, miste alla pioggia che cadeva domenica sera sul San Nicola mentre il Cagliari festeggiava la promozione in serie all'ultimo respiro, sono quelle dei bilanci e dei saluti, con la speranza di rivedersi e la certezza di aver vissuto una stagione indimenticabile e ben superiore alle aspettative, al di là del finale amaro. Sono i social a ospitare le prime dichiarazioni post sconfitta dei giocatori biancorossi. C'è spazio per le emozioni, il dolore sportivo per il K.O. e l'orgoglio di aver fatto parte di un'avventura comunque entusiasmante. Il primo in ordine di tempo a commentare la serata del San Nicola è stato Michael Foloruncio. Sulla traversa, colpita dal suo destro a giro, si sono infrante le speranze del Bari di passare in vantaggio e chiudere i giochi. Non basta una sera per smaltire la delusione, ammette, ho pensato tante volte a questo tiro, a questo palo. Avrebbe cambiato tutto, la nostra stagione e avrebbe esaudito i nostri e i vostri sogni. Abbiamo sognato insieme e questa cosa ci legherà per sempre. Di peggior sconfitta della carriera parla Sebastiano Esposito, destinato, come Foloruncio di proprietà del Napoli, a tornare al club di appartenenza. L'Inter, il desiderio dell'attaccante classe 2002, quattro reti e tante giocate illuminanti da febbraio a giugno in bianco rosso e chiaro ed è stato ribadito dal diretto interessato attraverso un video affidato a Instagram con il San Nicola sullo sfondo. Spero sia solo un arrivederci, il suo messaggio, la mia navicella, vista da casa. Non ha chiuso al meglio una stagione vissuta per una buona metà d'attore e protagonista della B 2022-23, Walid Khedira, a digiuno di gol nei play-off dopo averne segnati 22 tra campionato e Coppa Italia. Non servono parole per descrivere questo momento, ammette con dedica al tifo bianco-rosso. Non avervi fatto gioire è il motivo di così tanta tristezza e sconforto, però avete dimostrato ancora una volta quanto siete grandi, forza Bari sempre. E' sotto contratto fino al 2025 ed è uno dei pezzi pregiati del calcio mercato che verrà come Elia Caprile. Quando un anno fa firmai con la Bari, ricorda il portiere, neanche nei miei sogni più belli avrei immaginato di giocare per coronare il sogno di ogni bambino, essere un calciatore di Serie A. Provo enorme orgoglio e gratitudine per la città e la tifoseria e per aver condiviso questo viaggio fantastico con i miei compagni. A loro posso solo dire grazie e porterò sempre nel mio cuore ognuno di voi. Sarà un arrivederci a luglio o un addio. Di certo del Bari del futuro faranno parte Mattia Maita, possibile capitano che parla di una partita che resterà per sempre come una cicatrice sulla pelle, e Gregorio Morachioli. Un dolore immenso davanti alla nostra gente quando eravamo così vicini a raggiungere il sogno, spiega l'ex Renate. Ci rifaremo, promessa che accomuna un gruppo destinato però a essere cambiato almeno per il 50% nell'estate che è alle porte.